Dopo un breve brunch al ristorante 11 Leoni, appena di fronte allo stadio, la Fiorentina è scesa in campo all'interno del centro sportivo per la rifinitura sotto gli occhi del patron Andrea Della Valle, presente anche la di Sandro Mencucci. Sarà la sfida numero 148 in Serie A quella di domani tra Fiorentina ed Inter, 60 per ora le vittorie dei Nerazzurri, 38 quelle della Fiorentina, 49 i pareggi, va anche detto che da ben 11 sfide in campionato, una serie infinita praticamente, la Fiorentina non riesce a fare risultato pieno contro l'Inter. Il bilancio dei 73 confronti giocati al Franchi però vede in vantaggio proprio i Viola con 25 successi contro i 17 dei Nerazzurri. Domani una sfida anche tra tecnici stramaccioni nel corso della conferenza stampa della vigilia ha detto di elogiare e di apprezzare il lavoro di Delio Rossi, il tecnico che parlerà proprio nella conferenza stampa al termine della rifinitura. Va detto tra l'altro che domani dovesse scendere in campo. Sarebbe la partita numero 200 per Manuel Pasquale in Serie A e anche con la Fiorentina. Grazie. 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 Grazie.